per andare agli ordini dello Stato, tutto è pronto partiti, tutti si avviano regolarmente seguiamo le posizioni Phil Fedexam nelle prime posizioni insieme a Work My Time all'esterno Tuam Em davanti va Jackson però, Jackson è in vantaggio su Work My Time poi Tuam Em scarta Jackson e si trascina Work My Time nella sua azione i due in pratica sono fuori corsa abbiamo visto mi sembra la caduta di Pinna però ci è andato in terra ma con gradualità se così si può dire diversi hanno fermato intanto Tuam Em passa in vantaggio su Phil Fedexam che precede Mem Amur che è terzo a largo dei primi prova anche Neville poi Favola Antica che precede Vitality e allora Tuam Em è il leader e ora su Neville che galoppa al Giubba Nera a largo di tutti e muove su Mem Amur, Phil Fedexam, Vitality, Favola Antica e poi Please Have Fun, Timothy di Bremen allungano questi davanti ora, Neville retrocede Intanto Tuam Em un po' scomposto in questa curva all'esterno Mem Amur dietro ai due Phil Fedexam poi dalla corda prova a spostare anche Please Have Fun in recupero con Timothy di Bremen che sta scattando al centro pista Tuam Em è in vantaggio deve parare la rincorsa però di quelli cattivi all'esterno che sono Timothy con Please Have Fun all'interno Phil Fedexam poi Blue Evolution nel finale lotta a tre vehemente con nel finale Please Have Fun Rosario Mangione Please Have Fun Rintuzza la monaccia interna di Phil Fedexam e quella esterna di Timothy di Bremen quarto Tuam Em da rivedere Please Have Fun Rintuzza Timothy di Bremen all'interno Phil Fedexam forse nell'ordine ma da stabilire la sensazione televisiva è questa quella reale potrebbe essere no, dovrebbe essere confermata 9, 10, 4, 11 un'idea di arrivo totalmente e assolutamente provvisorio per il momento dalla postazione centrale è tutto Stiamo rivedendo la curva di Jackson che ha cambiato azione e ha portato nel suo scarto World My Time è tutto non vedo non vedo eccoci qua eccoci qua cercavo il vincitore era alle mie spalle stavamo rivedendo un po' quello che era accaduto sulla prima curva con il medico e l'ambulanza che stanno soccorrendo Nicola Pinna Rosario Mangione ti sei divertito please have fun è un cavallo che ci tenevo tantissimo oggi vincere perché l'ultima volta ero secondo oggi vabbè è stato un po' un percorso non facile però bene cavallo in progresso no, un cavallo sì che sta venendo molto avanti e che gli piace la distanza sì, sì, gli piace la distanza un bel cavallo Rosario Mangione please have fun vince la Maiden il ristorante di Pop